Buongiorno a tutti, rieccoci in diretta da Roma, sono venuto qui al Salone Internazionale dei Birrifici Artigianali per poter andare a cercare ad assaggiare qualche birra e poter fare in modo che anche la birra artigianale possa essere messa a disposizione di tutti coloro che come voi la vorrebbero, non hanno tempo per poterla cercare, per assaggiarla e non hanno tempo nemmeno di capire che tipologia di birra è, quando invece loro stessi hanno la possibilità di farsi conoscere e che a volte hanno difficoltà nel farlo, quindi io vado ad aiutare anche loro per poter far conoscere il loro prodotto, la loro birra in questo caso, a chi capisce anche davvero di birra, a tutti quegli operatori neogastronomici che vanno alla ricerca di un prodotto particolarissimo come può essere anche e soprattutto la birra. Di nuovo da Roma e Europe è tutto al momento, entro e vado a vedere di quanti birrifici ci sono. Ciao a tutti!